Amici ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati. A questa nuova puntata dello speciale Salutiamoci che si occupa del viaggio intorno al mondo delle imprese del meridione della nostra Puglia e in particolare del nord barese. Come vedete siamo in compagnia di un giovane, brillante, dinamico imprenditore, francese Giuseppe Agricoltura, che proprio da qualche giorno ha festeggiato i suoi 15 anni di attività. Se mi consentite aggiungo un particolare, ci troviamo all'interno del parco di Mezzogiorno dove l'impresa francese Agricoltura sta eseguendo una serie di lavori di manutenzione straordinaria. Pino, io ci tenevo a sottolineare il fatto che tu da 15 anni stai operando all'interno del mondo imperatoriale e ti pregherei di spiegarci quali sono i settori di cui ti occupi. Allora Felice, innanzitutto una premessa, grazie dei complimenti che mi hai fatto in questo momento. La mia azienda di che cosa si occupa? Si occupa principalmente del verde, lo state vedendo in città, realizziamo i rondò, realizziamo tutto quello che riguarda il settore dell'agricoltura. Non pensiamo solamente al verde, ma pensiamo anche a questi lavori di recupero. Oggi, come dicevi, stiamo nel parco del Mezzogiorno, stiamo facendo un intervento di opere straordinarie per quanto riguarda gli incendi. E' un periodo dove l'erba secca incide molto sugli incendi e quindi stiamo facendo un intervento di prevenzione. Oltre la realizzazione dei rondò a verde abbiamo realizzato anche delle grandi opere, abbiamo realizzato la città della moda, la fashion district, abbiamo realizzato la villa comunale di Molfetta, abbiamo realizzato l'orto botanico, abbiamo realizzato i rondò di via Terlizzi, via Ruvo, abbiamo realizzato l'ultimo capolavoro, quello della Madonna della Rosa. Che sai benissimo, diciamo, dove si trova e quindi è bello da vedersi. Se mi permetti, io ci tenevo proprio a sottolineare l'accuratezza e l'attenzione che tu riservi sempre a questi lavori. Sì, ci tengo tantissimo a precisare una cosa, che io non soltanto ho l'azienda di servizio, ma ho anche una farmacia agricola. Però è chiaro che guardo sia un aspetto che anche l'altro. Quando interveniamo nei lavori sono il primo che scende in campo nel visionarli a prima mattina. Poi è chiaro, nel corso della giornata ci sono anche gli altri miei interventi, i miei sopralluoghi. Mi ritengo fortunato in questo momento che ho una bellissima squadra. Oggi per essere vincente devi avere un bel nucleo di operai e devi fare squadra. E io oggi ho degli ottimi collaboratori, sia italiani ma anche ragazzi favolosi, extracomunitari, rumeni e albanesi. Ci tenevo, se tu mi permetti di sottolineare questo aspetto. Noi siamo di buon mattino, purtroppo il tempo è inclemente, le condizioni atmosferiche sono un po' bizzarre. Però devo prendere atto del fatto che Pino era letteralmente sul campo già da parecchio. Come dovrebbe fare un buon imprenditore? Noi iniziamo la mattina alle 4 e mezzo. I due trattori agricoli che più in là li riprenderemo, loro sono dalle 4 e mezzo di stamattina qua. Io ero qui alle 5 e mezzo, quindi dal primo mattino la mia azienda scende già in campo. D'altra parte, se tu mi permetti, voglio dire, se stai come abbiamo sottolineato festeggiando i 15 anni di tevità, questo significa che evidentemente il tuo senso di dedizione al lavoro in qualche modo viene premiato? Benissimo, benissimo. Hai detto benissimo. E questo credo sia importante, se non altro perché testimonia proprio la professionalità, la cura, l'attenzione con cui tu esegui e segui letteralmente ogni tipo di lavoro. Giustissimo. Apparentemente sembrerebbe un lavoro molto facile questo, però in realtà c'è un lavoro molto crudo, ci devi stare dietro alle macchine, devi stare dietro agli operai, devi far capire loro cosa significa salire sulle macchine, gli aspetti anche con le persone, cioè essere molto umili e molto sinceri con le persone dove andiamo a lavorare, cercando di fare il nostro meglio. Senti Pino, poiché hai sottolineato un aspetto, cioè hai parlato del fatto che stai facendo una serie di trattamenti, di recuperi e di manutenzione straordinarie, ecco, soprattutto relativamente a noi stiamo parlando proprio del parco di mezzogiorno dove effettivamente di recuperi e di lavori ce ne sono parecchi da fare. Ecco, poiché hai parlato anche di farmacia agricola, quali sono i trattamenti che richiedono in questi tempi questa isola? Allora, la farmacia agricola, ma tu parli del settore, cioè del momento? Sì, questo partirò del momento. Allora, in questo momento noi avremo i trattamenti sull'olivo, un trattamento sull'olivo dove l'insetto che colpisce in questo momento è la tignola, è una farfa, è un lepidottero, molto comune dalle nostre zone in Italia, è molto diffusa ed è un insetto che provoca parecchi danni fino alla caduta degli olive. Ha tre generazioni, una antofaga, una carpofaga e una filofaga. Quella antofaga è quella che colpisce i fiori, diciamo che non è molto pericolosa questa, anche perché quest'anno abbiamo avuto un'ottima fioritura e quindi, diciamo, in percentuale non è molto dannosa. Quella dannosa è quella carpofaga. L'insetto forma delle gallerie all'interno, diciamo, del nocciolo e poi ci saranno i danni il mese di settembre. Invece quell'altra, quella filofaga, è quella che, diciamo, la tignola rimane nelle foglie. Questa è molto meno dannosa rispetto a quella, diciamo, della produzione finale. Questo insetto si sviluppa durante il ciclo biologico di questo insetto, diciamo, nel periodo invernale e racchiuso nella foglia. E poi aprile-maggio ci sono i sfarfallamenti e quindi inizia tutto il ciclo, diciamo, dell'insetto, quello che provoca i danni alla produzione. Senti, un'ultima domanda. Proprio perché mi pare che questo sia un settore, diciamo, all'interno del quale tu ti stia espandendo, no? Cioè quello della farmacia agricola, vero? Ecco, hai delle prospettive ancora di crescita? Allora, Felice, la farmacia agricola oggi non ha molta crescita perché si ritrova purtroppo in un momento, diciamo, che conosciamo benissimo tutti, una crisi, una crisi profonda e dove l'agricoltore, l'imprenditore agricolo non esegue molto quelli che sono i trattamenti antiparasitari. Qui ti dico che sono necessari. Nella farmacia agricola non trovo a dire la verità. Ecco il mio essere di muovermi, di essere, diciamo, vincente. Ecco perché da primo mattino, ripeto, entro nei campi e seguo, diciamo, quelli che sono gli interventi di bonifica delle aree, ma non soltanto. Facciamo anche parte di movimento terra, di edilizia. Facciamo parecchi lavori. Io ti ringrazio per questo. Come vedete ormai c'è una sorta di piccolo diluvio che ci ha colpiti. ringraziamo l'azienda di Pino Francese, Agricoltura, SRL, che è un'azienda, l'ho sottolineato, estremamente dinamica, ci ha spiegato in poche battute le attività che svolge. Noi lo ringraziamo moltissimo di questo. Ringrazio anche voi per l'ascolto e vi invito a seguire questo viaggio intorno al mondo delle imprese. Grazie e risentisci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.